Ma perché sta la porta aperta? Daniele? Daniele? Non c'è niente Daniele? Daniele? Dani? Daniele? Dani? Dani, ma dove sei? Dani? Daniele? Daniele? Daniele, sei qui? Daniele? Daniele? Che cazzo? Anno, ma che scena che mi chiede fuori? Da lì? E' andato ad attaccare il contatore, ah! Eh, però sta luce la dobbiamo cambiare Andiamo a vedere che fa fritto E nel video... ma... ...